Valore solo C Eccola qua, attenzione Alza D'Amato, rincorsa 25 metri Primo salto Yurchenko con doppio evitamento Brava Abbondante, bravissima, meglio abbondante Meglio abbondare Grande applauso, grande applauso Ed ora la vediamo che si prepara Mentre corre sul posto Alice D'Amato Si scalda Eh sì, bisogna tenere le gambe calde Anche perché poi tra l'altro Qui nella zona della partenza del volteggio Che è dove siamo noi E dove siamo noi Proprio con anche la postazione Della diretta Arriva un'arietta frescolina Che le ragazze la sentono tutte Cioè lo vedete che le ragazze sono Sono in body E si prepara Pronta, salutato Surrelevé, concentratissima Secondo salto Gamba, rondata a mezzo Sotteso mezzo, bravissima Bravissima Comunque è un salto